un benvenuto a chiara salucci e marco brambilla protagonisti della locandiera che va in scena al teatro leonardo dall 8 al 19 febbraio un allestimento storico di corrado delia ormai vent'anni che lo porta in scena molto molto particolare definito scoppiettante pop moderno pop di tutto di più molto molto colorato chiara salucci ovviamente a mirandolina marco brambilla interpreta fabrizio che il servitore della locandiera io faccio domande servitore fidato iniziamo da chiara protagonista mirandolina il tema diciamo così dichiarato di di goldoni è quello di una donna molto furba molto manipolatrice in realtà il sottotema è di una donna invece che finalmente si autodetermina indipendente come lo vogliamo vedere adesso è più così tu sei una donna molto poliedrica sappiamo che hai varie attività anche dal punto di vista artistico come ti sei riconosciuta in questo personaggio beh è giusto quello che dici te che comunque goldoni sembra partire con un intento e poi alla fine ci dice ci dice altro forse come dici te è il modo in cui magari adesso non lo leggiamo ma secondo me anche anche i tempi comunque è stata una grande rivoluzione perché in qualche modo poi è la prima volta che un personaggio femminile riesce ad avere un un'importanza oltre che ad essere un protagonista assoluto in questo modo ma anche un diciamo una prevalenza rispetto all'uomo non alla fine mirandolina si si dimostra più intelligente tutti gli altri e più capace insomma di fare il proprio gioco in verità io non la vedo così manipolatrice come 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 goldoni insomma in qualche modo forse erano le sue iniziali intenzioni ma poi alla fine proprio per questo non è non è uscito quello in verità Isabella secondo me c'è anche il suo modo di relazionarsi al al conte al marchese è semplicemente il suo modo di autodeterminarsi come tu dicevi in una società di trovare il suo posto il suo posto nel mondo in qualche modo in una in una società che all'epoca ancor più di oggi era comunque a pannaggio un po' più degli uomini e e lei trova la sua modalità per cui in verità io non la vedo una grande ingannatrice cioè lei semplicemente risponde con gentilezza a alle invasioni in qualche modo del del conte e del marchese che poi si illudono che ma lo dice lei stessa dice provi a chiedere a quei due signori che fanno gli spasimati per me se ho mai dato loro un cenno d'affetto lei non lo dà un cenno d'affetto quindi in qualche modo lei non finge cioè porta comunque una verità una verità che mh che era sua e che il suo modo di di autodeterminarsi di essere indipendente di essere una donna libera quindi forse questo poteva essere visto ai tempi come una cosa strana ecco l'unico gioco che fa poi recentemente lo fa con con il cavaliere che appunto arriva dichiarandosi nemico assoluto le donne allora lei a quel punto dice beh allora adesso mi metto di picca come appunto dice mirandolina quindi quello sì quel gioco quel gioco lo fa per per smascherare in qualche modo questo personaggio ecco una domanda a marco che tra tutta fabrizio va bene non vogliamo spoilerare anche perché ormai la la vicenda la conoscono in molti poi sappiamo che alla fine la trama e la trama la conosce un po' come dire come finisce Roma e giulietta ok sappiamo che alla fine mirandolina non sceglierà nessuno dei tre pretendenti ma sceglierà fabrizio appunto il suo servitore secondo te questa ci sono tanti tanti personaggi maschili ehm quale ti sembra il più moderno dei tre abbiamo appunto i due e nobiltà di spada la nobiltà di c'è la differenza sostanziale diciamo che il marchese faceva parte di una nobiltà dovuta di sangue come si faceva ma in verità con una disponibilità economica ormai eh quasi nulla no perché i tempi passano la famiglia era come un buon il nobile decadenti no tutto lì nel senso che la famiglia era nobile sì ma poi in verità economicamente il conte invece che arriva invece lo chiamiamo noi il nostro adesso lo chiameremo l'arricchito ok esatto nobiltà di toga bravissima nel senso che essere acquisito con il lavoro ma la stessa cosa in verità se voi pensate anche la stessa mirandolina è così nel senso che mirandolina se voi nel testo di goldoni parlo in maniera eh faceva parte della rappresentava la cosiddetta borghesia che stava piano piano prendendo piede nel mille parliamo del 1700 no siete d'accordo illuminismo eccetera eccetera il periodo storico era quello e quindi anche mirandolina no aveva questa cosa della delle classi sociali la stessa cosa leggendo poi i testi sai i saggi quando ci mettiamo a studiare poi lo spettacolo no i nostri personaggi eh quando lavoriamo sul testo facciamo analisi eccetera andiamo anche a riguardare magari vecchie edizioni no vecchi no diverse anche edizioni del dei testi del di goldoni no quelle traduzioni intendo isabene no e quindi eh io mi ricordo ai tempi avevo guardato Fabrizio ma tanto per capire poi certo il lavoro poi registico che ti dà il regista magari sai a volte prende una piega rispetto all'originalità diversa perché lo si fa in maniera contemporanea lo si fa come ha voluto Corrado Delia noi in questo caso abbiamo deciso di dare un segno particolare preciso ma rispetto alla tua domanda Fabrizio per esempio scoperto che non faceva parte della borghesia con la come la linea media come faceva parte la stessa mirandolina con il padre che avevano già questa locanda alla quale poi lei è arrivata dopo la morte del padre no e poi ci sono i nobili come abbiamo detto decaduti e quelli invece acquisiti no ok Fabrizio invece era un ragazzo di campagna nella storia originale sono andato poi a guardare poi nel testo no del settecento e lui aveva ehm anche lui una mira in verità per cercare di entrare nella fascia sopra di lui che la fascia sopra di lui non era la nobiltà ma era bensì la borghesia cosiddetta no quindi il suo a casarsi con la stessa mirandolina adesso ripeto e sono saggi l'ho fatto anche in università me lo ricordo ai tempi queste sono i goldoni no quindi mi ricordo che c'erano tutte queste queste cose molto carine poi da in verità da più studio più che da riportare poi al pubblico ripeto poi la locandiera la storia ma questo magari può servire anche all'attore magari nel lavoro per capire bene no il tuo personaggio da dove dove deriva quindi c'era anche anche Fabrizio ha una mira cosiddetta materiale se la vogliamo chiamare così di di arrivo no eh non solo di amore perché l'amore c'è di Fabrizio nei confronti di mirandolina no perché infatti quante volte si definisce il suo e viene detto cameriere fidato c'è un motivo si conoscono da tantissimo tempo lui ha sempre aiutato eh nella locanda no a gestire le cose diciamo più facendiere no no e pulizia eccetera è sempre stato lui di insieme a lei e quindi diciamo che lui oltre ripeto a questa cosa che ha voluto raccontarti raccontarvi che che leggevo no che mi ricordavo di appunto della figura di Fabrizio che non è tra i personaggi quello meno dettagliato anche psicologicamente della tragedia non so se della commedia selle certo ehm e quindi questo background suo in verità noi più di tanto non lo riportiamo nel senso che io non faccio quello astuto che c'è il secondo fine no che può essere in verità magari visto come dagli altri personaggi e diventa molto semplice lui diciamo che è veramente ha veramente un sentimento di amore eh nei confronti di lei no quindi lo dice anche a un certo punto eh come tra sé quando fai da parte al pubblico no eh alla fine diciamo basta chiudere un occhio e tanto io lo so che questi forestieri che possono essere ricchi meno ricchi vanno e vengono nella locanda ma io resto e quindi scusa se ti interrompo volevo fare anche qualche altra domanda chiara no volevo rubarvi troppo tempo ehm mi interessa molto da un punto di vista di allestimento eh è stato definito un allestimento pop quindi ci sono è tutto di plastica in quel punto tu sei inguainata in un completo in latex rosso una parrucca bionda ricordi un po' sei una torta di Raffaella Carrà se vogliamo fare un po' se vogliamo fare un paragone eh quanto è stato divertente Calazzi perché ovviamente la locandina l'abbiamo sempre vista in costumi costumi d'epica 1700 manierismo è una sorta di manierismo anche questo perché comunque il pop è un manierismo è un eccesso nel quanto è stato divertente per te anche per gli altri protagonisti cioè ovviamente da da un un imprintino un po' diverso anche allo spettacolo immagino sia un'idea di Corrado ma comunque anche a voi interessa cioè diverte comunque interpretarli in questo modo sì assolutamente è stato divertentissimo eh vabbè i costumi le scene tutto diciamo tutto lo spettacolo farle prova è stato molto divertente allora è sicuramente oltre alla parte di divertimento c'è anche una parte tecnica molto forte una parte tecnica molto precisa perché comunque eh ricordiamo che noi eh seguiamo il testo di Goldoni adesso poi ci sono dei tagli dei rimaneggiamenti però comunque diciamo che il testo rimane quello lì che viene proiettato poi in un mondo di plastica che come dicevi tu è una sorta in effetti anche di eh di manierismo anche questo no di oggi di e quello ci ragganciamo anche un po' quello che diceva prima Abrambi tutti i personaggi sono dei personaggi a a a tutto tondo che lo nascondono anche un lato quindi in qualche modo c'è un lato di verità un lato di finzione quindi questa plastica rappresenta un po' anche questo e e come magari Goldoni all'epoca comunque in qualche modo criticava questa società di forma eh noi possiamo farlo con una società di plastica con la società dell'instagram del metaverso no? E quindi ci stiamo sfuggendo sempre di più verso eh verso questa direzione ed è molto divertente indagare questa strada ehm ed è stato molto divertente anche comunque utilizzare questi postumi queste e queste scenografie ehm alla fine ci sentiamo a casa comunque poi quando ormai ormai quella scenografia è diventata la mia la mia piccola casa dove dove sono padrona di tutto dove dove sto bene. Una domanda che faccio tutte e due ma la cosa più strana curiosa che vi siete sentiti dire dopo lo spettacolo perché penso che abbia colpito l'immagine insomma l'immaginazione di molta gente vedere la locandiera messa in scena in questo modo così particolare qualche commento anche dopo lo spettacolo? Io la prima volta che lo faccio e poi Marco sa rispondere allora io nelle lezioni passate ti dirò la cosa più divertente più più bella allora a parte vabbè i soliti complimenti nel senso eh allora dalla parte sia di persone di un pubblico più giovane sia magari un pubblico magari più 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 avanti con l'età entrambi hanno trovato questa questa direzione che abbiamo appena detto no? Della plastica del popo del po' delle delle no? Un po' di eh dell'eccesso no? in certe cose eh non disturbante rispetto anche a persone che magari ci sono quante persone vengono a teatro e quando facciamo Shakespeare facciamo non dico che stanno attenti al testo però noi siamo molto Corrado è molto attenta a questa cosa abbiamo sempre siamo sempre stati molto fedeli ai vari testi che abbiamo sempre portato in scena nelle rappresentazioni e questa cosa è uguale nel senso Goldoni abbiamo fatto come ha detto prima Chiara assolutamente noi usiamo il testo e quindi questa cosa di poter unire chiamiamola la contemporaneità la chiamiamo così una contemporaneità di adesso con un testo invece del settecento e questa cosa risulta accordata mettiamo scusami la parola usiamo questa parola è risultata anche un pubblico magari non competente intendo che gli piace soltanto andare a vedere una commedia perché è divertente durano ore venti no? Un'ora e un quarto quindi eh è una cosa che magari fa più gente rispetto a magari una persona che va magari a vedere determinati altri spettacoli a teatro no? Questo è diciamo che è veramente per tutti eh questa locandiera eh e quindi il 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 commento migliore è stato questo no? Erano felici di vedere di sentire ah ma veramente Goldoni ha scritto questo sì sì veramente l'ha scritto ma perché come noi poi lo rifacciamo no? Contemporaneo che allora ti viene da pensare la gente era contenta e stupita di questa cosa soprattutto anche veramente anche i ragazzini magari che sai a diciotto anni magari è un pubblico molto giovane non è abituato adesso andare a teatro no? E quindi questa cosa ti fa piacere sapere che li prendi no? Anche un pubblico che non è un pubblico di teatro ecco tutto qui. E invece Chiara rispetto a altri ruoli che ha interpretato appunto prima parlavamo anche prima di registrare l'intervista di Dottor Oro in Mercurio quale ti ha dato di più dei ruoli che ha interpretato con con Corrado D'Elia con la compagnia Corrado D'Elia? Ahia è una scelta difficile allora cioè in verità ogni personaggio ti tira fuori un po' un qualcosa di nascosto che c'è in te e e quindi ogni ogni personaggio tira fuori magari un lato un pochino diverso e Mirandolina sta nascendo adesso crescerà eh con l'inizio delle repliche eh però diciamo che già già mi trovo molto bene già anche con Mirandolina comunque ho scoperto i lati diversi io sono un pochino più un pochino più pratica un pochino meno meno di di trucco parrucco e e sicuramente non tutti nel latex per come per cui diciamo che anche questo è stato è stata una bella prova e in questo caso tu ti occupi molto spesso anche delle scenografie e degli spettacoli dal compagno di D'Elia in questo caso non ti sei occupata delle scene perché sono scenografie storiche credo che tu fossi una bambina quando hai iniziato questo questo spettacolo allora questa volta sì già già c'erano eh poi diciamo che invece il il lavoro questa volta visivo eh si è concentrato solo un po' più su tutte la 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 grafica la 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 locandina e stiamo facendo anche delle grafiche interessanti per i social appunto ricordiamo che tu ti occupi anche molto di di grafica sei un architetto quindi hai diverse attività senti vogliamo ricordare anche gli altri interpreti che non ho nominato oltre ovviamente Corrado D'Elia che è il Cavaliere di Ripa Fratto perché è regista e Marco Brambilla che è con noi Fabrizio gli altri interpreti sono Tino Danesi Daniele Ornatelli Gianni Quillico e Andrea Tibaldi giusto correggetemi li ho detti tutti volete rilanciare voi l'appuntamento manca ovviamente pochissimo al debutto al Teatro Leonardo vai Chiara vado io te io che sono già al Teatro Leonardo vi dico che vi aspettiamo quindi qui dall'otto al diciannove dal martedì al sabato alle otto e tre alle venti e trenta e la domenica alle sedici e trenta siamo qui vi aspettiamo e non vediamo l'ora di incontrarvi di dire certo venite venite in tanti perfetto io vi ringrazio grazie grazie grazie